L'Europa dorme, l'Italia dorme, qui c'è poco da parlare, poco da perdere tempo, da attaccare l'ISIS, da eliminarlo dalla faccia della terra e da togliere domani mattina le sanzioni contro la Russia perché Putin l'aveva vista giusta. Quindi io temo che la Mogherini, Renzi, gli Alfano e questa Europa ci stiano portando al suicidio. Le guerre sbagliate hanno alimentato il terrorismo, gli interventi in Iraq, in Libia, in Afghanistan, sono stati disastrosi. L'ISIS è un'altra cosa, l'ISIS va eliminata dalla faccia della terra. Sono preoccupato da quelli che pensano di dialogare con l'ISIS, quindi dall'Europa, dall'Italia, o di qua o di là. O con Putin e con la Francia o con i terroristi. La Lega sceglie di stare con Putin e con la Francia. Preoccupato per il giubileo per quanto riguarda l'Italia? Io non cambio il mio modo di vivere, io non ho paura, quindi io ne farai altri cinque di giubilei. Non siamo noi a dover arretrare, siamo noi che dobbiamo attaccare per lasciare un futuro di libertà ai nostri figli. Quindi spero che non accada nulla, nonostante l'Italia abbia come tutore dell'ordine pubblico un personaggio inadatto come Alfano. Chi propone non un intervento militare, lei come replica? Sono complici. I buonisti e i pacifinti sono complici dei terroristi. Con i terroristi non si dialoga, i terroristi vanno eliminati e poi potremo convivere con tutte le fedi e con tutte le persone del mondo. Ma i terroristi vanno eliminati con le cattive maniere.